Arrestato dai carabinieri sul provvedimento della Procura della Repubblica di Frosinone, un 41enne residente nel capoluogo con precedenti penali per reati di furto e di truffa. Il provvedimento è scattato in quanto l'uomo deve scontare 4 anni di reclusione per un reato commesso ad Alatri nel 2016 quando si rese responsabile di una rapina ad un supermercato del posto. L'uomo è stato condotto al carcere di Frosinone.